benvenuti in questo breve video vedremo insieme un esempio di progettazione tramite configuratore prodotti bloom disponibile sui services portale a cui è possibile registrarsi gratuitamente in qualsiasi momento vediamo quindi la progettazione di un sistema pocket adanta doppia revego duo di bloom ci troviamo nella home page del nostro account i services e selezioniamo configuratore prodotti quindi nuova configurazione nel selezionare una configurazione andiamo quindi su sistemi pocket e troveremo una pagina informativa relativa a revego quindi potremo vedere molte informazioni compresi anche video e documenti relativi all'ordinazione o anche alle indicazioni di montaggio qui in basso vediamo anche una progettazione guidata e semplificata rispetto a questo sistema ma nel nostro caso procediamo con la selezione di configurazione qui direttamente nella prima parte ci troviamo quindi a dover selezionare come prima informazione quale approccio stiamo usando alla progettazione di revego da una parte abbiamo l'installazione della nicchia e quindi andiamo a inserire il nostro mobile con revego all'interno di una nicchia o presumibilmente affiancato ad altri mobili preesistenti o che stiamo progettando in contemporanea di contro l'altra possibilità è quella di avere una costruzione indipendente quindi un mobile diciamo slegato svincolato da altri corpi mobile affiancati la selezione che noi andiamo a fare è quella di installazione in nicchia nella quale il sistema ci chiederà lo vedremo tra poco i dimensionamenti esterni mentre in caso di costruzione indipendente i valori che ci chiederà il sistema saranno quelli interni selezioniamo quindi in nicchia a questo punto ci chiede la larghezza di installazione noi andiamo a inserire come valore 1500 che è il massimo corpo realizzabile con revego duo altezza di montaggio possiamo andare a inserire nel nostro caso questo valore 2222 ponendo caso di aver fatto i conti con quanto abbiamo direttamente a fianco al nostro revego profondità di installazione andiamo inserire 822 vediamo poi più in avanti questi valori come vengono spiegati a questo punto il sistema ci andrà a consigliare o comunque a escludere ciò che non possiamo fare e ci chiederà che tipo di configurazione vogliamo realizzare nel nostro caso andiamo a fare una progettazione su revego duo sinistra prima selezione è se noi vogliamo prevedere una struttura con zoccolo o senza zoccolo nel nostro caso selezioniamo senza zoccolo quale spessore utilizziamo per il fianco della costruzione del pocket i valori sono da 15 a 19 mm e noi inseriamo 19 mm e procediamo cominciamo con la parte relativa alle altezze in prima battuta ci chiede la definizione delle fughe quindi fuga superiore quindi anta su fianco del pocket e noi in questo caso inseriamo 2 mm tutto ciò è importante in relazione a all'altezza delle ante dei mobili diciamo affiancati a revego la fuga inferiore in questo caso sarà di 7 mm in seguito abbiamo quota di montaggio del portante di scorrimento quindi diciamo la parte superiore del nostro corpo mobile con revego e avremo gli spessori del ripiano quindi del cappello sempre di 19 mm e la copertura del portante di scorrimento la veletta che realizzeremo sempre con spessore 19 mm avendo fornito le misure di altezza globale e di fuga il sistema ci andrà a calcolare automaticamente il frontale l'altezza del frontale 2200 mm diverso è il discorso come vedete qui dell'altezza interna nell'applicazione che dovremo andare un po a selezionare noi è interessante vedere l'altezza effettiva del pocket che in questo caso come vedete è 2209 l'altezza di montaggio quelle che noi abbiamo inserito inizialmente come vedete nel pittogramma qui di fianco dovrà prevedere in questo caso tutto ciò che è relativo al sistema revego quindi non comprenderà solamente il fianco del pocket ma anche lo spessore delle piastre di giunzione tra i due fianchi del pocket altezza interna nell'applicazione noi prendiamo il valore massimo che il sistema ci ha già detto essere disponibile valori di fughe laterali in questo caso noi andremo inserire un valore di 2 mm lateralmente tenendo conto che questo valore verrà in caso di applicazioni multiple di revego verrà raddoppiato a contatto con un successivo revego quindi avremo due tra tutte le ante dello stesso revego e il fianco revego in caso di applicazione doppia con quattro ante nella parte centrale sarà raddoppiata cosa che viene mostrata ulteriormente nella pittogramma che vedete qui di fianco la larghezza del frontale verrà quindi calcolata in modo automatico in questo caso dovremo anche scegliere la struttura essendo nella parte della larghezza ci chiede come viene finito diciamo il nostro mobile con revego quindi se ci serve un sostegno anta che va a un fianco di appoggio oppure al fianco terminale al fianco del corpo mobile nel caso specifico noi andremo a realizzarlo con un fianco terminale a questo punto vedete che il sistema della larghezza di installazione totale globale che avevamo selezionato di 1500 mm ci avrà escluso per darci la larghezza interna nell'applicazione quindi ciò che noi potremo andare inserire potrà arrivare una larghezza di 1350 in quanto in caso di revego duo il pocket sarà largo 150 mm procediamo quindi con lo spessore del frontale diciamo che siamo arrivati alla zona all'area relativa alla profondità tenendo però conto che un valore molto importante in questo caso sarà quello dello schienale in quanto la profondità effettiva interna utile sarà cruciale per definire la lunghezza delle guide che potremmo usare o che potremmo andare a utilizzare tagliandola differentemente dallo standard e quindi di quanto il mio frontale uscirà rispetto al pocket una volta diciamo chiuse le ante al suo interno quindi un piccolo suggerimento potrebbe essere quello di definire lo spessore schienale pocket e poi andare a lavorare su spessori e su sormonti del frontale in questo caso non è solamente un valore di spessore ma è anche un valore di ingombro quindi se noi usiamo uno schienale da 10 mm ma non lo mettiamo a filo ma lo fresiamo all'interno dovremmo mettere la distanza della fresatura più lo spessore dello schienale in questo caso volendo utilizzare uno schienale per esempio da 8 mm ribattuto quindi a filo interno del fianco metteremo 8 mm questa cosa può andare a variare quella che è la profondità utile del nostro fianco pocket utilizzabile per noi detto ciò possiamo andare a definire quello che è lo spessore del frontale vedete che il range che abbiamo disponibile è tra 18 e 26 mm tenendo conto che selezionando uno spessore del frontale a partire da 23 mm il sistema ci suggerirà di utilizzare una protezione per l'irrigatura in caso di utilizzi impropri dell'anta di rebego in chiusura e in apertura nel nostro caso specifico andiamo inserire un anta spessa 20 mm ed eccoci quindi che il sistema ci presenterà quello che è la lunghezza nominale delle guide che ci permette di effettuare meno lavorazioni possibile quindi quello che il sistema ci comunica il consiglio che ci da è utilizzando la guida da lunghezza nominale 675 mm io potrò lavorare e montare il sistema senza rifilare le guide con questa guida come vedete il sormonto del frontale quindi l'uscita dell'anta dal pocket una volta reinserita sarà di 86 mm posso arrivare a 69 utilizzando una guida maggiore che però dovrò rifilare certamente perché non avrò la profondità utile per usarla diciamo nella sua interezza in questo caso 86 è per me un buon valore e quindi posso procedere in questo modo la profondità interna nell'applicazione deriverà dal calcolo che il sistema ci ha fatto fondamentalmente attraverso il mio valore di schienale pocket che ho inserito e attraverso il mio calcolo la profondità di installazione se ricordiamo l'abbiamo inserita noi di 822 in quanto abbiamo calcolato la profondità del fianco che volevamo realizzare abbiamo aggiunto lo spessore dell'anta e una fuga fissa di 2 mm che l'anta a quando è chiusa davanti al al pocket possiamo quindi procedere a questo punto siamo nella parte degli accessori diciamo opzionale e possiamo scegliere se inserire il supporto interruttore di contatto per il disinnesto elettrico del dispositivo quindi qui all'interno bloom ci permette di avere un sistema che toglie la corrente da funzionamento diciamo nei dispositivi elettrici che possono essere ad esempio dei forni all'interno di revego e bloom ha previsto un alloggiamento dove inserire un interruttore di contatto di contro la protezione delle irrigature qualora ci fossero dei dubbi c'è sempre un tasto info che ci dà la possibilità di capire cosa ci sta chiedendo cosa ci sta suggerendo il configuratore e vedete che a partire da 23 mm come detto poco fa il sistema ci suggerisce l'utilizzo della protezione dalle irrigature non volendo inserire in questo caso nessuno dei due accessori suggeriti possiamo andare avanti al risultato così come per tutte le configurazioni realizzate tramite configuratore corpo mobile o configuratori prodotti di bloom vedremo che abbiamo un riassunto di quanto noi abbiamo deciso di inserire a livello progettuale quindi potremo vedere riassunte tutte le nostre scelte e nel caso anche quelle suggerite dal sistema o pre calcolate dal sistema secondo i nostri valori inseriti avremo poi anche la distinta articoli e quindi sistema avrà già individuato quali articoli mi serviranno quali componenti mi saranno necessari per andare a realizzare questo mobile con revego in ultimo avremo informazioni di progettazione costruzione che saranno esattamente quelli relativi al mio progetto quindi non si tratta di schemi prestabiliti ma esattamente dedicati alla mia situazione progettuale il taglio pezzi anche qualora fosse necessario per quanto riguarda la mia ferramenta in questo caso noi possiamo tagliare le guide lavorarle a misura secondo quello che il sistema ci consiglia e quindi anche in quel caso il configuratore ci dirà tutto ciò che dovremo fare taglio pezzi per quanto riguarda appunto i pannelli fino anche a visualizzazioni dettagliate in 3d con indicazioni di montaggio regolazione e relativi filmati disponibili in fondo al nostro riassunto della configurazione nella parte di destra invece abbiamo questa sezione chiamata azioni nel quale potremo andare ad aggiungere alla libreria il nostro corpo che abbiamo progettato aggiungere al progetto esattamente questo revego che abbiamo progettato potremmo andare a trasmetterlo al a un rivenditore per avere informazioni su disponibilità del prodotto o un eventuale preventivo e molto interessante la possibilità di andare ad esportare interamente il nostro progetto in pdf ad esempio compresi anche i disegni di produzione in 2d potremo andare a scaricare anche i dati per andare a lavorare in macchina questo nostro progetto come vedete diversi software macchina sono compresi e previsti all'interno del configuratore prodotti e ovviamente potremmo andare anche a selezionare i file direttamente a macchina compreso quello dedicato a easy stick di bloom quindi il bxf2 grazie per aver seguito questo video speriamo sia utile per approcciarsi alla configurazione del sistema revego di bloom alla prossima per il prossimo video grazie mille